diamo il benvenuto a culture social art a stil pani ciao come va ciao ciao tutto bene grazie grazie per l'invito allora tu hai pubblicato da non molto un il tuo primo album che è panic room generalmente io mi ricordo lo collego anche a un film la panic room è una stanza in cui uno ci si rifugia nei momenti più particolari ecco cosa rappresenta per te allora sicuramente è uno spaccato anzi l'ultimo spaccato della mia vita quindi racconta un pochino quello che sono quello che ho fatto quello che ho vissuto e e poi tutta l'idea della panic room in realtà è proprio uscita dal dalla title track del disco che dove racconto insomma della malinconia la impersonifico come una donna che in realtà non voglio più nella mia vita quindi diciamo che da lì mi è partito tutto il viaggio per il disco e da lì ho aggiunto insomma pezzettini appunto della mia vita quindi ci ho messo tutto tutto dentro insomma le parti brutte le parti le parti meno brutte le parti belle quindi quindi secondo me un bel viaggio dentro me ecco infatti tu hai già accennato nel tuo alun ci sono ben otto tracce in queste tracce tu parli di tante tematiche diverse ecco quella che secondo te hai avuto più difficoltà a raccontare a mettere in musica qual è probabilmente contro mano quella forse è stata un pochino la più difficile perché mi sono distaccato tanto dai suoni che utilizzo spesso e soprattutto scritto in un modo anche abbastanza auto ironico cosa che poche volte mi riesce quindi diciamo che quella forse è stata la più difficile però magari anche la più divertente da da fare ha inserito nell'album anche varie varie sonorità ecco io volevo sapere come hai fatto a scegliere quelle che hai inserito all'interno dell'album e perché hai scelto proprio queste ma allora guarda in realtà le le canzoni dipendono molto da dal mood che ho magari durante quel periodo quindi comunque sì ci siamo distaccati tanto da alcune cose come ti dicevo contro mano una un pezzo super per pop però sai lo scritto in estate c'è voglia di ballare voglia di stare un pochino più sereni voglia di stare un pochino più leggeri quindi avevo anche voglia di inserire una una sonorità del genere poi per quanto riguarda invece invece le altre comunque ci siamo sempre mossi sul lato un pochino più rap anche punk rock quindi quindi diciamo qualcosa che già avevo sperimentato in passato tu sei un giovane artista e però io sono curiosa voglio sapere quali sono i tuoi miti musicali cantanti ai quali ti ispiri e perché poi ti piace quella musica come la utilizzi anche tu all'interno del delle tue canzoni allora in realtà il mio artista preferito proprio in generale probabilmente è coez però miti musicali forse non non ne ho comunque ne ascolto così tanta di musica che sceglierne uno per me è veramente difficile poi ti dico magari coez su tutti però comunque rimane lì la cosa comunque sento veramente tanta 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 musica e quindi mi faccio ispirare anche da tante cose allora tu sei giovanissimo io sono anche di questo parere qual è la musica che oggi rappresenta maggiormente i giovani secondo te però non non lo so cioè sì perché è un movimento generazionale probabilmente quindi quindi diciamo che magari quello che è stato negli anni 80 con con il rock con il punk probabilmente in questo momento lo è lo è per il mondo intero quasi eh con con la trap poi per quanto si possa condividere o non condividere alcune alcune scelte a livello stilistico a livello di testo a livello sonoro però secondo me in questo momento storico è il rap la trap comunque è il nuovo pop insomma ecco allora fra i tanti artisti che ci sono nel panorama nazionale internazionale c'è qualcuno con cui vorresti duettare no e guarda ti dico night night un artista di roma che seguo veramente dagli inizi poi lui lui quando l'ha ascoltato per la prima volta aveva forse 16 17 anni e in questo momento ti dico è la persona che che quando scrive mi fa ritrovare nei testi è qualcosa di incredibile secondo me quello che scrive la profondità d'animo che ha e come tocca determinati tasti è una persona a cui in questo momento storico soprattutto da un anno a questa parte mi ispiro molto anche per i miei testi e vorrei arrivare a scrivere così allora cosa rappresenta la musica per te vita sicuramente comunque qualcosa che che mi ha accompagnato fin da piccolissimissimo sono sempre stato un grande ascoltatore mi è sempre piaciuto cantare tantissimo e poi soprattutto anche analizzare la scrittura comunque determinate parole quando vengono messe in musica mi colpiscono tanto 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 quindi comunque è una compagna di vita anzi questa è la cosa più più carina che posso dire sicuramente è una compagna di vita allora io ti chiedo ancora una cosa cosa vorresti per Stilpani e cosa vorresti invece per Alessandro nel tuo prossimo futuro non andiamo molto oltre allora nel mio prossimo futuro spero di trovare una per Alessandro spero di trovare una tra virgolette serenità mentale qualcosa che comunque sia duraturo e soprattutto comunque di stare un pochino più tranquillo e sereno per quanto riguarda invece il lato artistico io ovviamente spero che più gente possibile venga a conoscenza del mio disco più gente possibile venga a conoscenza della mia musica e più gente possibile venga a conoscenza di quello che effettivamente sono allora abbiamo detto che sei uscito col tuo primo album che naturalmente è possibile ascoltare su tutte le piattaforme digitali e per quest'estate cosa hai preparato? allora in questo momento non abbiamo nessuna conferma però dovremo avere qualche concerto tra Milano, Roma e l'Aquila appunto che è la città dove abito quindi diciamo che lavoreremo su quello poi diciamo abbiamo fatto anche varie iscrizioni al contest quindi se qualcuno ha la bellissima idea di prendermi insomma saremo anche lì per qualche contest benissimo allora noi io insieme a tutti quelli che ci hanno ascoltato noi ti facciamo tuoi un grandissimo in bocca al lupo per tutto grazie mille grazie e mi raccomando eh quest'estate tanta musica sì sì sempre e comunque lavoriamo sempre ciao grazie mille ciao 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 ciao